Bene ragazzi bentornati qua su cyberpunk e dobbiamo andare da Danny Ah Non so perchè mi da zona ostile quindi penso che ci sarà da sparare Belle macchine si può guidare comunque? No Belle belle macchine Opralà Zona ostile Si scrollato e inviato gli editor ci stanno già lavorando Di al marketing di mettere Non so chi sono ma Guidiamo la loro macchina Andiamo Abbiamo uno 0211 a Westbrook Se ci sono unità in zona rispondano Ricevuto centralino Siamo su Silk Road West Ah ma c'era qua Se è di nuovo la piscina intasata di qualche riccone Do le divisioni Ah cos'è successo? Forse stava ristrutturando e Henry ha preso in prestito il camion Quell'idiota ha sempre amato improvvisare Magari sono in casa Prova a suonare Ok Ma l'avevo spenta? Continuiamo a cercare Vabbè Io entro Quindi? Ehi come va? Boh Trova Danny e Henry Allora vediamo Qua non si può arrivare Di qua forse Ci sarà qualcuno da qualche parte? Saranno in piscina? Sì Oh cavolo Oh cavolo Suona fin troppo famigliare qui E' il caso ti fossi dimenticato Che cazzo sei venuto a fare qui? Mi manda Carrie Per il concerto Quale concerto? Perché non viene a parlarmene lui? Vogliamo riunire i samurai Per un unico concerto È per questo che voleva rimettere insieme la band Che idea carina Ma non se ne parla Non suonerò con questo pezzo di merda Danny No Non se ne parla O lui O me Scegli Se Danny si impunta Siamo finiti Come vanno le cose? Di merda amico Danny mi vuole fuori dal concerto E noi eravamo già d'accordo su tutto Che cosa Carrie ti paga? Allora è questo il motivo Non ci posso credere Cazzo Oh Ta calma E allora portalo via da me E levati dal mio cazzo di giardino Non costringermi a scegliere Suoniamo con Danny Preferisco Suonare con Henry Qualcosa ti turba Forse Forse se conoscessi la storia La decisione spetta a te Cazzo Mi fa incazzare Che Danny controlli tutto E detti condizioni D'altro canto Henry ha la merda nel cervello Non ci si può fidare di lui Grazie Davvero utile Eeeh Se qualcuno mi dicesse cosa è successo Sei cieca Quello mi ha riempito la piscina di cemento Forse aveva un buon motivo Davvero? Un motivo? Rinunceremo a uno dei due Non è un problema Possiamo prendere qualcun altro Per il concerto Ma non sarà lo stesso Non sarà mai lo stesso Carrie Eeeh Non lo so raga Suoniamo con Danny Vi Mi dai una mano per favore Dai Suoniamo con Danny Se devo scegliere Suoniamo con Danny Dai Cazzo Carrie Scherziamo È lei che ne sta facendo una tragedia Non io Ascolta Ti procurerò Sai che ti dico Carrie Vaffanculo Per fortuna Silverhand Non è qui a vedere tutto questo Hai finito? Sparisci Tutto a posto Che mi dici di Nancy? Mi ha contattato Organizzerà tutto E ci farà sapere Ma Ci vediamo al concerto Posso ancora parlare con lui? Cazzo Devo trovare qualcuno Per ripulire tutto No Parla con Danny Abbandona la via di Danny E attendi la chiamata di Nancy Tra un giorno Aspettiamo la chiamata di Nancy Insomma Eeeh Alla X Supreme Mi seguo in carico Ah devo aspettare la chiamata di Nancy Ok Allora mandiamo avanti il tempo Eeeh 24 Ore Vai Vediamo Eccola qua Oh merda Oh merda Anche provato Non spreco il fiato Per quello stronzo Beh Allora ci vediamo stasera E non preoccuparti per la chitarra Ho già tutta la strumentazione Ah 2,5 km da qua Eeeh Ok Il Non ce n'è uno più vicino Eh beh Torniamo indietro La Ok Andiamo Perfieto Eh lo so che questi Queste missioni Non sono molto Azionevoli Con tanta azione Però ci sta Anche un po' di tranquillità Un po' di svago Ok Adesso il mio obiettivo Raga è Aumentare la pistola Prima di finire il gioco Ehi Cazzo Bastardo Ok andiamo Dobbiamo andare Qui Ok Viaggio rapido Ok Ma? E' questa? Ancora nessuno Correre per poi aspettare La solita storia Che cosa faccio qui? Eh ma Ah devo aspettare Ok Eccola qua Ehi Vi Sono qua Ho qualcosa per te Non so se lo sai Ma questa Apparteneva A Silverhand Eh Anche la sua chitarra Adesso Cazzo Nancy ci sa proprio fare Dovremmo solo sussurrarla E mi cosci all'orecchio E sarebbe fatta Dov'è Carrie? Dov'è Carrie? Dovrebbe arrivare a momenti Mi ha detto che suoni Molto bene Lo spero proprio Perché non faremo Nessuna prova Mi preoccuperei per il rimpiazzo Di Harry Piuttosto Carrie ha chiamato Drauzin Dei Catroot Lo conosco L'ho visto suonare E? E' bravo? Non è male Non eccezionale L'incognita della serata Sei tu Prendi la pillola Ma si discreta E se iniziassi di nuovo A vomitare sangue? Cerca di non dare nell'occhio E' la grande serata di Carrie Ho l'impressione che Nancy Creda che io non sia all'altezza Beh Ha ragione Arrivo un secondo Vai nel bagno Ah nel bagno Ok Eh scelate sto Leggendo un messaggio Sei pronta a spaccare? Cos'è? Divertiti No Volevo prendere Vabbè Ecco Minchia Prendi il controllo Più velocemente Uh beccati come sono messa Andiamo Dai Johnny Parla con Carrie Ecco di qui Ah eccolo qua Questo è Drowsing Dei Cutroot Ehi Sono un fan Un grande fan Anche tu Ho tutti i loro album Cioè Non avrei mai sognato Rilassati John È sulla tua stessa barca Se vuoi parlare con una star Parla con me E cerca di calmare quei tremiti Sto tremando come lui Se non peggio Sono io o la folla? Vabbè D'accordo Andiamo Uh Ah posso muover me? D'accordo D'accordo Grazie a tutti Grazie a tutti Sì Bellissimo Bello Che stranzata Che cosa? In realtà Ero parecchio nervoso per il concerto Sentivo di dover dimostrare qualcosa A me stesso, a te Non so a chi cazzo Ma alla fine mi sono Solo divertito Tutto qui Ah raga è vero Lui dovrebbe essere Gabbo di Squared Vedete che ci assomiglia Mi ricordavo che la volevano mettere Penso, non lo so Vuoi fare un altro concerto? Solo per l'antico di averlo fatto soltanto per divertirsi Vuoi farlo di nuovo? Ah No Va bene così In tal caso Ecco Prendila Come souvenir Sei sicuro? Non suonerò senza di te Non sarebbe lo stesso So cosa cerchi di fare Ma io continuerò a suonare Vuoi sentire una nuova? Johnny? Se... Se n'è andato, vero? Sì Ma può ancora sentirti Grazie Ma Ora non sono dell'umore adatto Per voci Dall'oltretomba E tavoli che si muovono Cos'è? Credo che questa dovresti tenerla tu Non avresti dovuto Davvero Bella È la pistola con cui ho cercato di sparare a Johnny Quando è entrato in casa mia Vuoi dire con cui hai cercato di sparare a me? Già E prima Non importa Fico Mi sento come se mi fosse risvegliato Da 50 anni di sonno Si torna al lavoro Stami bene Vi Mi farò sentire Vi Come ti sente? Non posso credere che quello stronzo di Carrie Ti abbia lasciata così Spero che tu non abbia più altre ultime richieste Spero che le ultime richieste siano finite Non potrai reggerne altre Lo sono E inizio a rimpiangere di averti coinvolta in questo concerto E io che pensavo di sentire un Grazie Hai detto che era importante per te Questa cosa Di Carrie Lo era Ma non più importante di te Carrie ha riavuto la sua vita Ma dovremmo preoccuparci di come riprenderci la tua Andiamo Uh Adesso ho l'altra pistola Voglio Quindi ho Quella di Johnny Ah no Non ce l'ho Aspetta Ah eccola qua Revolver Iconico Eh mettiamola come seconda Vediamo Questa la smonto Montiamo un paio di ro Ma in uso Perché No Vabbè Mi voglio No Perché mi ha messo queste Voglio rimettermi queste io Esatto Così 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 Bene raga Io vi saluto Fai a vedere come spara Bene Ho due pistole Gigaforti E niente Ci becchiamo A un prossimo episodio È stato bellissimo il concerto È veramente figo